Statisticamente qualcuno di voi fa uso di prodotti omeopatici come per esempio il popolare oscillococinum che spesso viene dato dalle mamme ai propri bambini. Oggi vi voglio raccontare di quello che secondo me è il più grande equivoco che circonda l'omeopatia. Non è un segreto, per carità, però le multinazionali che producono questi prodotti che non sono meno furbe delle altre, non ci tengono particolarmente a raccontarlo. In realtà io stavo preparando il video sulla raffinazione dello zucchero quando ho sentito la notizia purtroppo della morte del bambino in seguito a una otite che non è stata trattata efficacemente con dei farmaci perché il medico aveva prescritto dei preparati omeopatici. Allora ho deciso di fare questo video. Nella mia esperienza moltissime persone, e sono sicuro anche qualcuno di voi, confonde l'omeopatia con la fitoterapia, cioè con il curarsi con le erbe. Omeopatia non vuol dire curarsi con le erbe. Questo è il modo, tra l'altro, con cui molte persone automaticamente si giustificano la presunta efficacia dei prodotti omeopatici dicendosi eh ma sì, con me funziona, ma non c'è niente di strano perché ci si è sempre curati con le erbe, giusto? È verissimo. L'uomo si è curato per tantissimo tempo con le erbe perché nel mondo vegetale esistono tante piante che contengono dei principi attivi che sono molto potenti per, per esempio, curare o prevenire certe patologie. Socrate si è suicidato con la cicuta e sappiamo benissimo come in molte piante siano contenuti dei principi attivi che poi sono serviti o servono tuttora come base per delle medicine che noi assumiamo, pensate all'aspirina. Quindi nessuno ha niente da dire sul fatto che le piante possano contenere delle sostanze, delle molecole, dei principi attivi che possano essere utili in determinate condizioni. Peccato, peccato, che nella stragrande maggioranza dei prodotti omeopatici di erbe non ce n'è neanche l'ombra. Esatto, non ci sono prodotti vegetali dentro la maggior parte dei prodotti omeopatici. Questo è in assoluto l'equivoco più diffuso. Omeopatia non vuol dire curarsi con le erbe. No, no e ancora no. Prima ho citato il prodotto di punta della Boaronda multinazionale che produce lo Scinococcinum che molte mamme danno, specialmente in autunno, ai propri figli pensando che contenga chissà quale cosa che sviluppi e rafforzi le difese naturali dei bambini. Sapete cosa contiene veramente lo Scinococcinum? Beh, se andiamo a vedere un'etichetta di una confezione venduta in Italia non troviamo la composizione. Se però prendiamo una confezione venduta negli Stati Uniti, che sono molto più stringenti a meno per questo, scopriamo che un granulo di un grammo di Oscillococcinum contiene esattamente rullo di tamburi un grammo di zuccheri. Esattamente, un grammo contiene un grammo di zuccheri. Niente altro. Zero. Assolutamente nient'altro. Più precisamente contiene, se uno va a vedere le tabelle tecniche, l'85% di saccarosio e il 15% di lattosio, entrambi purissimi. Lo Scillococcinum è zuccheri puri al 100%. E lo dichiara l'azienda produttrice stessa. E nessuna analisi di laboratorio ha mai scoperto, e potrà scoprire, altre sostanze all'interno dell'Oscillococcinum. Non è un segreto, ripeto, solo che nelle confezioni italiane non è riportato, è riportato invece solamente nelle confezioni americane. Quindi non ci sono erbe, solo zuccheri, saccarosio e lattosio. Basta. Stupiti? Lo sapevate? Sì, qualcuno di voi probabilmente lo sapeva, ma nella mia esperienza un sacco di persone non lo sa, ed è convinta che le pastiglie di Oscillococcinum, così come di altri granuli, contengano delle sostanze ottenute dalle erbe. L'Oscillococcinum è un prodotto che spesso le mamme scelgono perché non ha effetti collaterali, ed è ovvio che non abbia effetti collaterali, è solo ed esclusivamente zucchero, molto ma molto costoso. Ma guardate come la multinazionale che lo produce lo pubblicizza con questo cartellone fuori dalle farmacie o dalle parafarmacie. Furbescamente vuole suggerire che ci sia una chissà quale censura perché non può nominarlo, perché non può fare pubblicità al nome, chissà che cosa viene tenuto nascosto. Certo, viene tenuto nascosto, ma da loro, il fatto che contiene solamente zucchero. La cosa in realtà, se uno va a vedere la legislazione, non è affatto strana, perché per poter registrare e vendere un medicinale omeopatico bisogna che non abbia alcun effetto registrato. Tanto è vero che, a differenza dei normali medicinali, non viene richiesta alcuna dimostrazione, alcuna prova, prima di metterlo in commercio, che sia efficace per qualche patologia. Esattamente. Se io voglio domani mettere in commercio un nuovo antibiotico, devo fare delle prove di laboratorio fino ad arrivare alle prove con delle persone, devo dimostrare che non è tossico in certe dosi, devo dimostrare che sia efficace. Niente di tutto questo è richiesto per i medicinali omeopatici. Ed ecco perché non c'è il foglietto illustrativo all'interno. Ve lo siete mai chiesto? Avete mai notato? Nei medicinali omeopatici non c'è il foglietto illustrativo, quello che normalmente ti dice utile per curare questo, questo, questo. Ci sono queste controindicazioni, non bisogna eccedere 50 mg per giorno, eccetera eccetera eccetera. Non c'è perché non è richiesta alcuna prova che sia efficace su qualsiasi tipo di malattia, e quindi può essere messo in vendita con la sola richiesta che non abbia controindicazioni, non abbia effetti. E quindi se l'azienda produttrice ci mette dentro dello zucchero puro è sicura che non abbia effetti. Geniale, vero? Infatti sulla confezione degli Stati Uniti è presente una frase che sostanzialmente dice guarda che non c'è alcuna prova che quello che stai comperando abbia un qualsivoglia effetto. Compralo, ma non pensare che qualcuno abbia fatto dei test. Che tra l'altro è quello che succede per esempio anche nel mondo degli integratori. Gli integratori alimentari o gli integratori in generale non devono dimostrare nulla prima di essere messi in commercio. Il che non vuol dire che non abbiano mai nessun effetto, però vuol dire semplicemente che io domani posso mettere in commercio un integratore ma non devo dimostrare che ha un effetto di un qualche tipo per esempio sulla mia salute. Qui da noi dovrebbe esserci scritto senza indicazioni terapeutiche approvate che è quello che vi dicevo. Poiché non si richiede la prova che funzionino e infatti le aziende non fanno test, trial clinici per dimostrare che queste cose funzionano come potrebbero è solo zucchero. Sulla confezione dovrebbe esserci correttamente scritto, magari molto in piccolo, guardate bene, che non ci sono indicazioni di trattamenti approvati. Ora, probabilmente avrò fatto arrabbiare alcuni di voi, avranno spento, avranno cambiato canale come si diceva nella televisione. Se vi trovate bene coi granuli omeopatici, ma va bene, non ho intenzione di farvi cambiare idea, non mi interessa. Quello che mi interessa è che siate consapevoli che i granuli sono quasi sempre 100% zuccheri puri, purissimi, ok? E di certo anche parlando dei farmaci cosiddetti allopatici ci sono dei trattamenti che spesso sono completamente inutili. C'era Mark Twain che diceva che un'influenza se non curata passa in sette giorni se invece viene curata con delle medicine passa in una settimana. Ed è vero, c'è spesso un abuso di farmaci quando non servono, è inutile prendere un antibiotico all'inizio di un'infezione virale, per esempio. Il problema però, in questo caso specifico dell'omeopatia, è che se la gente non sa che in realtà c'è solo zucchero, si possono creare dei gravi problemi proprio perché vengono dati, purtroppo anche prescritti da medici, anche in casi in cui è assolutamente necessario un trattamento specifico per delle situazioni o delle patologie che possono essere molto pericolose e potenzialmente mortali, come nel caso del povero bambino che è morto per una otite. Ad alimentare la confusione però del povero cittadino c'è il fatto che a volte, a volte, nei prodotti omeopatici non è vero che non c'è nessuna traccia di, per esempio, vegetali. Per esempio in questa pomata all'arnica di cui vedete la confezione, se andiamo a vedere gli ingredienti troviamo che c'è il 4% di tintura madre di arnica. Quindi non è corretto dire che tutti i prodotti omeopatici non contengono nulla. Attenzione però, la domanda vera da fare in questi casi è comunque d'accordo, qualcosa contiene, ma è in dosi sufficienti per avere un effetto? Perché ripeto, alle aziende che mettono in vendita dei medicinali omeopatici non è richiesto di dimostrare nulla. Io ritengo questa veramente una cosa scandalosa, però così è. Vagando nel settore omeopatico del mio supermercato ho trovato questo splendido, meraviglioso esempio di omeodentifricio, che non è un dentifricio omeopatico, però è un dentifricio costosissimo, come vedete, visto che costa 6,50€, che però è venduto con questa dicitura, non interferisce con un trattamento omeopatico, cioè con i trattamenti che dicevo prima con lo zucchero. Per carità, io sono perfettamente d'accordo che dopo aver mangiato dello zucchero puro, delle caramelline di zucchero puro, ci si debba lavare i denti. Io lo faccio sempre quando mangio le zigulì. Ma a parte le battute, perché consigliano un dentifricio specifico durante un trattamento omeopatico? Beh, ricordate che l'omeopatia, se non lo sapete, altrimenti lo impareremo nei prossimi video, è nata nel Settecento. I medici non avevano la più pallida idea di che cosa causasse le varie malattie. Virus e batteri e tutto il resto sarebbe venuto molto molto dopo. Si immaginavano dei meccanismi che ora fanno ridere, parlavano di miasmi o cose di questo genere. Ed è il periodo in cui non c'era ancora neppure la consapevolezza che esistessero gli atomi e le molecole, per cui le spiegazioni che venivano date dei meccanismi della malattia ed eventualmente della guarigione erano completamente campati per aria e fanno ridere col senno di poi. Ecco, una delle cose che la teoria omeopatica, che ripeto è stata sviluppata e enunciata nel Settecento da un medico, tale Hahnemann, dice che, ed è ancora così perché è un atto di fede, dice che col trattamento omeopatico non si possono assumere cibi o comunque cose che hanno un sapore forte. Quindi se avete appena mangiato degli spaghetti agli olio e peperoncino e bevuto un caffè, mi spiace ma i vostri trattamenti omeopatici non funzioneranno. Quindi tornando al dentifricio, la menta è un sapore molto diffuso nei dentifrici però in qualche modo, non si capisce bene perché, influirebbe, interferirebbe con le medicine omeopatiche. E quindi ti vendono un dentifricio apposito, che può essere anche buonissimo, non lo so, non l'ho comprato, non ho intenzione di buttare via 6,50€ per provarlo, ma vedete dal contenuto è un normale dentifricio con un sacco di sostanze chimiche che contengono anche altri dentifrici. Ma perché granuli diversi hanno nomi diversi? E spesso questi nomi in latino ricordano piante o fiori o minerali o sostanze chimiche. Nuxvomica, Belladonna, Licopodium. Anche questi sono solamente zucchero? Sì, in realtà anche questi, la gran parte di questi, sono solamente zucchero. Quindi la composizione è uguale per tutti. Tuttavia gli omeopati li consigliano e li prescrivono per situazioni diverse. Come mai? Questo lo scopriremo in uno dei prossimi video alla scoperta dei lati meno noti dell'omeopatia. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, ma soprattutto diffondetelo sui vostri social. Prima di lasciarvi però vi do due consigli di letture parlando di medicine e disinformazione. I primi due sono due libri di Ben Goldacre, Bad Science e Bad Pharma, lì si trovano anche in italiano con il nome di Cattiva Scienza e Effetti Collaterali. Gli altri due sono di Salvo di Grazia, conosciuto anche come Mad Bunker. È un medico che si occupa di, diciamo, sbufalare una serie di sciocchezze di tipo medico che vengono diffuse continuamente in rete e ha scritto due bellissimi libri, uno si chiama Salute e bugie e l'altro Medicine e bugie. Mi raccomando, sono due libri diversi con un nome molto simile ma entrambi meritano. Per oggi vi saluto, mi raccomando, se mangiate dello zucchero lavatevi i denti, con un dentifricio normale va benissimo che comunque quello che conta è l'effetto meccanico. Il vostro amichevole chimico di quartiere vi saluta. Ciao!